Eeeeeee what's up a tutti ciurma e benvenuti raggiungerini in questo nuovissimo episodio su Supermarket Simulator Vi ricordo ragazzi che il vostro sostienico like è assolutamente fondamentale Se volete vedere un prossimo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere e superare almeno i 50 like So che ce la possiamo fare ragazzi ve ne chiedo veramente pochissimi Per voi è soltanto questione di un secondo per cui mi raccomando spolliciate E come sempre ringrazio veramente di cuore tutti quelli che stanno continuando a sostenere questa pazzesca serie Quindi eccoci qua di ritorno sul nostro simulator preferito Dopo che la volta scorsa abbiamo fatto ragazzi dei miglioramenti direi comunque parecchio importanti Abbiamo comunque aggiunto scaffali tipo a gogo ragazzi cioè una follia una cosa veramente folle Abbiamo riempito i nostri scaffali per fare in modo di non dover fare il restoccaggio durante la giornata di lavoro Così da facilitarci praticamente il tutto e permetterci di non creare delle quote alle casse O perlomeno alla cassa perché ce ne abbiamo soltanto una E inoltre ho comprato una nuova licenza prodotti ragazzi per prodotti della cura personale e della casa Quest'oggi dovremo vedere cosa riusciremo a fare di incredibile per riuscire a continuare a lanciare il nostro piccolo supermercato verso l'Olimpo dei supermercati E quindi l'ultima volta signori signori ci eravamo salutati così come sempre con il nostro meraviglioso magazzino super organizzato E con le nostre pareti praticamente ragazzi ricoperte di scaffali cioè è una gioia per gli occhi Cominciamo la giornata di oggi con più di mille cash Che direi non è male Tra l'altro ringrazio chiunque nella sessione dei commenti sotto allo scorso episodio ragazzi mi abbia fatto notare che effettivamente ogni qual volta compro qualcosa c'è sempre un costo di spedizione E io questa cosa sicuramente l'avrete notata ragazzi Non l'avevo notata invece Quindi ci sono state volte che magari ho comprato anche solo un prodotto e tac ci ho pagato le spese di spedizione Cioè chissà quanto ho pagato fino ad ora soltanto le spedizioni Ma ditemi come faccia ad essere così stupida Come sempre ragazzi io non inizio questi episodi avendo un piano preciso Cioè cosa che magari un vero imprenditore dovrebbe avere Ma solitamente ragazzi vorrò sempre abbraccio Vorrò sempre improvvisando Quindi quest'oggi io non ho la minima idea di quello che voglio fare Io credo signore e signori che sia arrivato un nuovo importante momento Cioè quello di chiedere un nuovo prestito alla banca Lo so che questa può sembrare una follia troppo grande ragazzi Ma abbiamo bisogno di questi 2000 dollari Sapete perché? Perché oggi voglio fare nuove importanti migliorie al nostro supermercato È arrivato il momento di fare cose più grandi ragazzi Prima di tutto ho intenzione di comprare una nuova sezione per il negozio ragazzi Quindi sarebbe a dire per poterlo quindi ingrandire E questo ci costerebbe la bellezza di 750 dollari Detto niente Dopo aver ingrandito finalmente il nostro ancora piccolo negozio Arriverà il momento di comprare quindi nuovi scaffali Nuovi frighi anche Perché veramente i prodotti da frigo ragazzi ne ho troppo pochi E anche nuove licenze prodotto E avendo questi 2000 cash di prestito Potremmo fare tutto ciò Senza passare troppo tempo ragazzi Veramente troppe giornate perlomeno Quindi È vero che dobbiamo ancora finire di pagare il primo prestito Però ragazzi essendo noi degli imprenditori di larghe vedute Sapremo benissimo che ingrandando il negozio Aumentando gli scaffali Quindi aumentando i nostri prodotti anche Comprendone di nuovi Avremo molto più ingresso Quindi non avremo paura di dover restituire questi soldi alla banca Signore e signori Direi di dilazionare ulteriormente Perlomeno di un pochino Dai a 20 giorni la durata del prestito E richiediamo Non voglio guardare Vai Ok Abbiamo adesso Rulo di Samburi La bellezza di 3063 Cash ragazzi E quindi A reasso Guardiamo il nostro negozio Per l'ultima volta Prima Di fare queste Incredibile Migliorie ragazzi Io non vedo l'ora Ogni volta che dobbiamo fare qualcosa di nuovo C'è l'entusiasmo ragazzi Mi cattura Proprio fin nelle viscere Apriamo finalmente ragazzi La sessione E tre Vai Yeah Com'è 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 Ragazzi Mamma mia Ma guardate di quanto Ce l'hanno ingrandito Ah è una stanza C'è E ti La messa Per i fondelli Questa è l'espansione Una stanzettina in più Io pensavo che mi avrebbero ingrandito Proprio tutta la stanza Ragazzi Non che mi aggiungessero una stanzetta Ci sono rimasto un pochino male Devo essere sincera Perché anche con quello che costa Insomma Minchia Comprarsi un bucio Vabbè Avendo questa stanzetta in più Possiamo comunque Riorganizzare per bene i nostri spazi Anche qua dovremmo fare ragazzi Tipo un po' l'angolo frighi Che dice Non mi è male questa cosa Quest'idea Un po' più l'angolo freschi Quanto è più grande così Ci facciamo un'idea Qua si potrebbe mettere pure qualche scaffale Un po' tipo in mezzo No Tipo qualcuno di voi mi ha suggerito Sarebbe figo Magari mettere gli scaffali Tipo per creare le corsie No Sarebbe veramente molto carina come idea Però So quanto questo sarà possibile Possibile Però magari si Basta ragazzi Essere anche un pochettino architetti No In certi momenti Vedete Magari Mettere tipo due scaffali così Uno qua e uno qua E fare una corsia che arriva qua E poi altri scaffali di qua Ehm Si Potrei anche spostare un po' di più la gassa Verso di qua Insomma Vedete Quindi allargare un pochettino Il più lo spazio Di disposizione E l'angolo magazzino Beh serve ancora ragazzi Questo è poco ma sicuro Adesso Con cash Che abbiamo a disposizione ancora Vediamo Che altro possiamo Comprare Direi allora ragazzi Intanto Di comprare Arredo nuovo È arrivato il momento Di fare le spese un po' folli Direi che l'idea di fare L'angolo Freschi Chiamiamolo così Tra molte virgolette Non è male Quindi dovremo organizzare Un attimino qua I frighi Allora Intanto Un frigo doppio Ora il carrello Ce lo mettiamo ragazzi E E un altro Frigo singolo Dai Per adesso Ce li facciamo andare bene così Vedete ragazzi Spedizione A me questa vocetta Mi era proprio passata inosservata Allora Ecco il nostro frigo singolo Ragazzi E Qui abbiamo il nostro frigo doppio Aspetta Magari ci entrano Tutti e tre Nella stessa Parade Mettiamoli Belli simmetrici È simmetrico Più o meno Ok Così Dovremmo esserci Dopodiché Però ovviamente Avendo il frigo qua Non so se potremmo mettere Uno scaffale qua Oggi sono felicissima Perché dobbiamo Riorganizzare un po' tutto Ma nel frattempo Sto anche intanto For a redeem alone Vedete Uno scaffale qua Va bene Quindi qua si crea Molto più spazio Per altri scaffali Qua potrebbe andar bene Ragazzi Anche uno di quegli scaffali Capite che ha Spazio Praticamente da tutti i lati Non so se mi spiega Forse no Ve lo faccio vedere Scaffale angolare Non so se rischiare Con quello Che poi ragazzi Lo ho in mezzo Come un coso O se Comprare scaffali normali E gestirmi Con quelli più normali Ragazzi Perché non vorrei rischiare Adesso ci penso Con quell'angolare Che poi magari Puoi per riorganizzare Le cose Poi non so Bene dove ficcarlo Alla fine Quindi direi Per assurdo Ragazzi Di comprare Altri due Scaffali normali Facciamo anche Quest'ulteriore Spesa Wow Gnac Te lo metto qua Buongiorno signore E quest'altro Gnac Adesso vediamo Un po' come Metterli Un po' Un po' In mezzo alle pallozze Messe così Si adesso Vediamo Come sistemare Ok No Guardate che bello Ragazzi Messo così Uè Mi piace Tra l'altro C'è lo spazio Per arrivare qui Ai frighi C'è lo spazio Per tornare qui Indietro Perché no Messo così Non è male Ragazzi Ed è giusto Tra l'altro Perché non ingombra l'ingresso secondo me così tra l'altro sarebbe bello riorganizzare praticamente veramente tutto e mettere i prodotti simili gli uni vicini agli altri questa cosa potrebbe richiedere un pochettino di tompo ma intanto cominciamo a fare restoccaggio ragazzi perché perché sì allora che dite mettiamo il latte tutto qua tutto il latte ragazzi l'ho messo qui a destra dopodiché io direi che questo qua singolo lo possiamo fare per l'acqua che solitamente l'acqua sta sempre in uno spazio un po per cacchi suoi no separata dagli altri prodotti ok l'acqua la metteremo qui ragazzi e qui poi il resto lo riempiremo sempre appunto di formaggio e di uova io direi che faremo metà formaggio allora il punto è se comprerò nuovi prodotti da frigo ragazzi quindi allora prima di riempire tutto intanto riordiniamo le cose per bene e ok uh qui ho altre uova ma avevo fatto il pieno di prodotti da frigo ma dai ok allora in magazzino ragazzi mi è rimasto solo olio di semi perché è andato un po' calando l'olio di semi che tristez quindi adesso devo vedere se posso usare queste scatole per spostare piano piano tutti quanti i miei prodotti e riorganizzarli come meglio posso e che sinceramente non so non so tanto come come organizzare il tutto sono un po' in crisi ragazzi allora ragazzi dopo tipo tre anni che sono stata un attimino a valutare come esporre appunto i prodotti in base a quale principio eccetera eccetera anche se poi un principio effettivamente non c'è mai sono riuscita a riorganizzare un attimino soprattutto nella mia testa quello che volevo vedere sugli scaffali quindi per adesso ho lasciato soltanto uno scaffale ragazzi per i prodotti di cura personale e della casa anche se non si sa mai magari potrei sempre aggiungere un altro scaffale anche magari singolo qui di fianco per poter ampliare insomma ecco la sezione cura della casa bla 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 dopodiché ho fatto questo scaffale che riguarda soltanto pasta e riso come potete vedere di qua ragazzi le farine e il pane dopo la sezione olio e penso che ci sarà solo il sale principalmente anche perché non sono riuscita a spostarlo in nessun modo con nessuna scatola questo maledetto sale qua la sezione frighi appunto la sezione dolce chiamiamola così dove appunto ci saranno i cereali il burro d'arachidi lo zucchero e qui ragazzi vedremo un attimino ci saranno appunto il tè e il caffè anche perché credo che siano gli unici prodotti che mi rimanevano da sistemare quindi dovrebbe essere più o meno organizzato tutto così il problema è che io adesso ho svuotato completamente il mio magazzino ragazzi come possiamo ben notare purtroppo è veramente poca la roba che mi è rimasta in pratica l'ultima volta i clienti vanno letteralmente svuotato il negozio e che è una cosa positiva mi pare ovvio ma direi di buttare intanto tutte le scatole e adesso signori e signori è arrivato il momento di rifare un po' di spesa perché i nostri scaffali stanno piangendo ok ho fatto la prima spesa grossa e come al solito me li buttano come se fossero me appunto il mio obiettivo ragazzi era di dedicare almeno due scaffali per prodotto per far sì che appunto ce ne siano abbastanza e seconda spesona della giornata ragazzi come potete vedere ben notare a parte il fatto che mi hanno ributtato i prodotti in mezzo alla strada di nuovo ma il mio conto anche il mio conto inizia a piangere un'altra volta ragazzi siamo tornati ad avere 600 cash nonostante oggi abbiamo richiesto un prestito di ben 2000 cash alla banca vai corre stock ma sì facciamo vedere che ci abbiamo anche la carta da culo ok ragazzi praticamente qua ci ho ficcato un po' di robe a caso cioè proprio quelle che mi rimanevano uno due pezzi dentro le scatole che mi stavano proprio sulle scatole a averceli lì in mezzo quindi almeno da un'idea lontana di quello che possiamo avere qui in negozio no non è male secondo me che dite ma sì ci mettiamo anche mastro lindo il plat del pluto e anche la candeggiana dai facciamo due scaffali belli una farina ok ragazzi allora io non so davvero se ho organizzato bene o no questi scaffali questo nuovo spazio in più se avrò abbastanza roba per soddisfare tutti i clienti io mi auguro veramente di cuore di sì e quindi non ci resta che fare questo nuovo esperimento anche oggi ragazzi ovviamente non ho potuto comprare nuovi licenze prodotto perché non mi sono bastati cash ma dobbiamo sperare di fare oggi i grandi cash ragazzi quindi non perdiamo più tempo incrociamo tutto l'incrociabile e apriamo buongiorno signore e signori quest'oggi di nuovo grandissima apertura del vostro supermercato preferito di quartiere abbiamo ingrandito signore e signori nuovo reparto freschi con gli stessi prodotti di prima ma c'è più spazio quindi mi raccomando non mancate lei signore lei al primo cliente quest'oggi faremo incredibilmente il 50% di sconto su prodotti che già sono scontati io volevo riguardare un attimino i prezzi tra l'altro e mi viene in mente di farlo soltanto adesso che ho già aperto il negozio sono veramente un genio qua mettiamo 6,40 ma i prezzi dovrebbero essere tutti a posto ragazzi perché li avevo sistemati la volta scorsa buongiorno soltanto questa robeta non faccia lo spilorcio ma siete gemmallo ma che sono solo sti due prodottini presso giusto grazie e banzati buona giornata se faceste una spesa un pochettino più consistente io sarei veramente molto molto felice preso l'olio di semi oh salve soltanto questo tre cose perché stanno comprando così poco ecco qua quanta bella roba signore grazie 50 e 90 sono queste le spese che ci piacciono oh questa da soddisfazione vedete prezzo giusto buona giornata grazie soltanto spuggeri olio di semi va bene io vi attendo tanto non ho paura che oggi mi finisco di prodotti la faraina prezzo giusto bene 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 è vero che c'è movimento ragazzi sarebbe bellissimo mettere anche le casse avere la musica ehi ya 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 ci piace ci piace quanta carta da culo signore ha sentito come morbida sulle chiappette 71 dollari e 29 e vai buona giornata buona giornata dovete spendere ah vedete oh questa è una spesa che da soddisfazione 59 40 eh sì 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 posso grazie signore non ho messo la luce farà buio lì farà schifo lì aspettate scusate nuove migliorie qui nel negozio supermercato ecco arrivo un attimo abbiate pazienza un attimo non è drittissima ma meglio di niente scusate si è formata coda olio di semi olio di olio di oliva quanta bella roba ecco qua ho capito che olio di semi signora ma solo olio di semi no cioè anche no hey 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 pensate yuhu ecco qua buona giornata mazza si è sfonda del burro da raghi di questa mi sa che non la vedremo più tornare grazie La carta da culo Costa una fortuna E se la comprano oggi T'acqua ma che è? È stata morire di sede che succede? My god Il mio cuore Non ero pronto per questo 32 centesimi che gli sto a dar bacino Gli devo dare il resto Ok Mi è finita l'acqua? Ma serio? Mi state a dire? Regà hanno finito l'acqua Porca paletta Allora approfitto ricompro un po' di prodotti da frigo Così a caso perché si Per non comprare solo una cosa Porca miseriaccia Non me l'aspettavo vi giuro Non me l'aspettavo queste cose Il latte non se l'è compratta nessuno Ma lo devo mettere per forza dentro Perché sennò diventa rancido Ho preso tutto tranne l'acqua Porcaccia miseriaccia Su Che mi si forma la coda Arrivo Un attimo Muoviti Porcaccia miseria Su Ecco 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 arrivo Non ci si vede Buio Oddio Scusate Scusate per l'attezza L'attezza Ecco qua Oddio quanta giunte Pane e olio di semi Che gusti strani Wiii È finita la carta da culo Non siamo Ha pagato contatti Aspettate Ecco la prima sleppa Della giornata Non posso Non riesco a stare Dietro a tutto Ragazzi Quanto io devo dare Che stress Solo la faraina Qualcuno di voi Mi aveva detto Una cosa strana Su tipi loschi Che si mettevano A fare giri loschi Di prodotti loschi Qui nel vicolo di fianco In effetti Sarei curiosa Di andare a vedere Se è vero Prezzo giusto Grazie Però mi si è formata la coda Non posso allontanarmi Dalla cassa 2940 Oddio Vabbè acqua Che cazzo Ehi Pensate foraina E' vomaggio Ecco qua Grazie I sciarayali Era da un po' Che non mi compravano I sciarayali Non mi piacciono più I miei sciarayali Oddio d'oliva Prezzo giusto We 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 Ci siamo Ma qualcuno Si è lamentato Per caso Di non aver trovato Dei prodotti Mi sembra di no Siamo in chiusura Non v'azzardo Da rientrare adesso Ecco Signora Finito Vabbè Mi ha preso le pastiglie Per la vostra figlia Mi va bene Da 2,50 Buona serata Vi ringrazio Grazie Grazie di cuore Veramente a tutti quanti Allora Io credo ragazzi Che non si sia lamentato Nessuno Di non aver trovato Dei prodotti Domattina dovremo fare Un pochettino Di restoccaggio Ma neanche così tanto Io non penso Che oggi sia entrata Tanta gionte Quindi probabilmente Allora non domani Ma il giorno successivo Ragazzi potrò comprare Una nuova licenza prodotto Intanto vediamo Come è finito Il giorno di oggi Vai 37 clienti Sì 37 clienti soddisfatti Ok ragazzi Ne è entrata rigente Pensavo fosse entrata Meno gente È stato Meno impegnativo Del solito Ovviamente ragazzi Siamo in positivo Il 298 Cash Nonostante tutto Nonostante i costi Di miglioramento Nonostante i costi Di fornitura Cioè ragazzi Non male direi Faraina Carta da culo Zuccaro susu E formaggio Allora Formaggio Direi di metterlo A 3,10 Zuccaro susu Passato 4,60 E che altro era Faraina E non mi ricordo Non mi ricordo 6,60 La faraina Non mi ricordo Cos'altro era Intanto i cereali Li aumento Li metto a 6,50 Guarda un po' Sono aumentati un po' I prezzi Per caso 2,05 Sì sono aumentati I prezzi 20,40 Ma tu guarda un po' Aha Questo va bene così 2,70 Haha E le uova ragazzi Mettiamole a 3,80 Cioè scusate Ma ci stiamo facendo Derubare Ma anche no Cioè Facciamo 2,30 Il lot Il burro da rachidi Io lo metto A 6,35 Perché Me va così Mettiamo 5,50 L'olio di olive E 3,50 L'olio di semi 2,50 Il sale Ci dobbiamo ricordare ragazzi Che adesso abbiamo Un ulteriore prestito Da mantenere Giornalmente Quindi Altra faraina ragazzi La stiamo Svendendo Fermi 4,25 Il pane Facciamo 4,65 E Panzati 3,30 Spuggeri ragazzi Ma quanto cazzo costano questi spaghetti 3,70 6,60 Whisbus Mari E lo shampoo per i pelati Lo mettiamo a 6,40 Mastro lindo Il pelato del plit Va bene così Il sapone va bene così Le pastiglie 20,40 Va bene così Allora la carta da culo E niente la devo ricomprare Credo allora ragazzi Ho approfittato Ho riguardato un po' tutti i prezzi Abbiamo risistemato un po' tutti i prezzi Perché non ci vogliamo far derubare Ovviamente no Per cui A reasso direi Prima di tutto Di pagare le fatture E l'affitto arretrati ragazzi Spansati Qui ce ne ho Oh Ma qua avevo lasciato il formaggio fuori Fa talmente schifo Che non se l'è rubato nessuno Allora ragazzi Allora che adesso ci regoliamo così ragazzi E vediamo Un attimo Lo mettiamo panzati al suo post Che si merita Zucchero suso E' stato comprato ragazzi E devo dire La carta da culo Però ragazzi C'è cavolo Ce ne stanno soltanto quattro Per scatola Un po' pochini in effetti Riso Pasmarino E rimettiamo l'acqua bomba Perché ieri ci hanno finito l'acqua ragazzi Per il resto ragazzi A me sembra che ci sia abbastanza di tutto Però Ricompriamo l'olio d'oliva La carta da culo Perché veramente me ne sembra poca Burro d'arachidi Così Questa sarà l'ultima spesa di oggi Che significa ragazzi Che partiremo comunque Da una base abbastanza sostanziosa Di cash A meno che Non finisce qualcosa Proprio gravemente Nel corso della giornata Che uno deve restoccare In fretta e furia Ma visto che ci sono Metterò la carta da culo Vicino all'altra carta da culo Ok Il costo ragazzi La carta da culo Direi di metterlo a 16 e 30 Come sempre Incrociamo l'incrociabile Vi apriamo per vedere Come va La giornata di oggi Perché se oggi va bene Dovessimo essere parecchio in positivo Ragazzi domani Vi prometto Compreremo una nuova licenza E apriamo Buongiorno a tutti voi Buongiorno Vi aspetta Io vi aspetto Mi aspetterò qui con tutte le migliori intenzioni Buongiorno No non stavo piangendo Mi è entrato solo un cash Nel occhio Speriamo bene Veramente Che oggi avremo un buon profitto Ieri sono entrati 37 clienti Vediamo un attimino Com'è l'afflusso Dei clienti di oggi Ok Ecco qua Buona giornata Comprate di più Però vi prego Una mia impressione La gente compra di meno Ragazzi Oh vedi Questa è già una bella spesetta Perché solo fra pastiglie E carta da culo Ha speso la bellezza Di 51 e 05 Andate tutti nello stesso ufficio Perché vi vestite tutti quanti De merda Allo stesso modo Che mortorio Qua dentro ragazzi Serve veramente Un altoparlante Solo questo E dai Prezzo giusto Ma tu guarda un po' Che bello 56 Ci piace Grazie Grazie Buona giornata E vediamo un po' Eeeh Eeeh L'è piaciuto Il palato del pulito Ecco qua La carta da culo Più delicata del mondo Sopra le vostre Chiap Ecco qua Ok Pastiglie per la lavast Vedi 46 Eeeh 465 Adesso non scherziamo Chissà se mai arriverà un giorno Ragazzi che uno spende Tipo 400 dollari Da noi Chissà Lo sogno ardentemente Quel giorno Buona giornata Eeeh Eeeh Alla Mizzoriacci Che bello spazetto Signore Grazie Pensavo Avessi speso un po' Di più Ma non fa niente Ma noi accoglieremo sempre Con un grande sorriso I nostri clienti Perché Perché Sì Anche se spendono pochino E fanno i taccani E li spilarci Perché Oh 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 Ma quanto cagate Nella vostra casa Mi scusi 79 dollari Solo di carta da culo Oddio bellissimo Quanto ha speso questo Sessantocinque Che cazzo ho fatto Che ho fatto Che ho sbagliato Ho sbagliato a dare il resto Ero troppo contenta Dalla spesa di prima Vedere tutta quella carta da culo Mi ha mandato in pappa il cervello Naggia a me Oh Se non sbaglio almeno una volta al giorno A dare il resto Non siamo contenti Oh Ve l'ho stata a comprare Sto sale de merda Così almeno mi è svuotato Lo scaffale Grazie Ecco qua Oh Lei invece Scusi in quanto Ecco Fa E lo 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 Rega la carta da culo E' finita Due clionti Ed è stata fatta fuori Mamma mia Come va forte la carta da culo Dovrò fare scorta di carta da culo Che c'è? E lo so Se la sono comprata tutti Accidonti Mo ci manca solo La gente mi si debba lamentare Perché non trova la carta da culo Oh ma tutti sti spaghetti Tutti sti spaghetti Vanno di moda Adesso i spaghetti Mi è rimasta soltanto Una scatola di spaghetti Devo ricomprare Spaghetti E la carta da culo Perché è presto E' troppo presto Per far finta di niente E dire che abbiamo finito il prodotto Non posso farlo E scusate Un attimo Ok Ecco spogheri Ecco spogheri Abbiate pazienza Eccomi qua Grazie Finito qualcos'altro Non lo so Non riesco Non riesco più a tenere Non riesco più a tenere Sott'occhio Tutto quello che Che finisce o meno Ragazzi E' comunque complicata La situa Tutto sto sale Da quando Mi scusi Ci volevo rimettere E' entrata apposta Per comprare la carta da culo 32 dollari E 60 Di carta da culo Tanto si sta facendo Poi Ecco qua Faraina Ragazzi non se le comprate più nessuno Buona giornata Pansati Pure panzati ragazzi Non se la sto comprando più nessuno Come potete tradire panzati La pasta migliore della città Siete cattivi 20 e 95 Ecco fatto Solo Ha ha Anche lei Carta da culo La più morbida Sul culo 50 e 50 Che precisione Questa ha fatto una spesa Della madonna Ragazzi Pansati E' faraina E' pelato del pulito 41 e 89 Chissà se chiudiamo In positivo ragazzi Più di 2000 dollari E io penso proprio di sì Con queste belle spesette 40 e 70 Sì E vai Che spettacolo Ragazzi Prezzo giusto Sono felicissima Anche se questa ho comprato Soltanto un pacco di faraina E finito il caffè Siamo in chiusura signori Adesso sono giustificata Scusatene 52 e 78 Ecco fatto Weee Anche lei signora Pansati Caffè Mo vogliono tutti il caffè Li mortacci Mo Sarà nessuna comprata Il caffè Pina Signore lei è l'ultimo Non facciamo entrare Altri clionti Perché sono le 9 di sera Siamo in chiusura Va bene Perfetto Odio di semi Ok ragazzi Allora questo era L'ultimo cliente Della giornata Incredibile ma vero Ragazzi Abbiamo superato I 2000 dollari Di incasso Di oggi Dobbiamo vedere Quanto siamo in positivo Si è lamentato qualcuno Purtroppo Direi di vedere Com'è andata questa giornata Ok I clienti stanno Pian piano aumentando Perché Perché sono entrati 40 clienti in totale Di cui però Purtroppo 5 Non hanno trovato I prodotti che volevano E uno Io ho dato il resto sbagliato Siamo ragazzi In positivo Applausi Applausi Di 814 dollari E quindi Spaghetti Sapone Acqua Cereali Spaghetti Sapone Acqua Cereali Spaghetti Parcapaletta Sapone Parcapaletta Se sono abbassati i prezzi Cereali E acqua Era una roba del genere Mi hanno abbassato i prezzi Bastardi E acqua Credo che fosse così Maledetti Dovrei aver messo Tutti i prezzi giusti Ragazzi Quindi Areasso Dobbiamo fare le follie Abbiamo deciso che dobbiamo fare le follie Ragazzi Sì Allora Intanto paghiamo affitto E fatture Già questa è la prima follia della giornata Dopodiché È arrivato il momento Di acquistare una nuova licenza Non mi interessa Abbiamo i soldi per poterlo fare Sì E allora lo faremo Sì Rimeremo di nuovo col culo a terra Sì Ma a noi poco ci importa ragazzi Perché è arrivato il momento Di comprare questa nuova licenza prodotto Che costa 550 cash Ma che ci dà la possibilità di avere Bon papà Torta Pepites Torta Bon back Crispy Kibi Kibi Ciocotte E fruggen Io voglio assolutamente avere fruggen Nel mio negozio So che non ci dà chissà che prodotti nuovi ragazzi Ma comunque sono dolci Sono cose che effettivamente non abbiamo attualmente Fra i nostri prodotti alimentari E la prossima licenza ragazzi Che compreremo assolutamente Sarà quella con Don Bernardo Cioè col parmigiano reggiano Perché Don Bernardo? Scusate ragazzi Ma fa sorridere più del dovuto Ma la prossima licenza sarà quella Anche perché avrà miele Tonno Ragazzi avrà delle nuove uova Nuovo zucchero a velo E mozzarella Comunque prodotti appunto che non abbiamo Però Quest'oggi Assolutamente ragazzi Vai Ok Adesso abbiamo a disposizione questi nuovi dolci ragazzi Scaffale Scaffale Allora l'unica cosa che si aggiunge al frigo È ovviamente fruggen Lo yogurt Il resto ragazzi si aggiunge agli scaffali Quindi Vediamo cosa dobbiamo comprare Nel magazzino non c'è rimasto praticamente più una mazza Soltanto panzati Quindi direi prima di tutto Porca paletta regga Devo ricomprare un sacco di roba Più i nuovi prodotti Tra l'altro Ok Primo ordine Andato Dopodiché Carta da culo Carta da culo Ragazzi le compro due Perché è andata a ruba Più finalmente I nuovi prodotti Abbiamo comprato Una marea Di roba Adesso Avrà il via Il restoccaggio E quando sarà il momento Dei nuovi prodotti Ragazzi li guarderemo insieme Allora qua ad esempio ragazzi Abbiamo i nuovi cereali Ma che carini Crispy kibi Come con l'orsetto Ma c'è un pruscione Amore Come cibi Ecco fatto Qui ragazzi abbiamo La tavoletta Di cioccolato Ma guardate Com'è carina Ma com'è raffinata Ragazzi Ma da tutt'altro Aspetto al nostro Negozio Da pulciosi E qui Questa roba Cos'è Non mi è chiaro So caramelle Che roba è Non so cosa vendo Ragazzi Ma fa niente Carino Fa tutt'altra figura Qui abbiamo Un altro tipo Di torta Ragazzi Guardate che bello Che è Wow Bellissimo E qui abbiamo Früggen Guardate quanto Früggen Quella sua Confezioncina Rosa Bellissimo E qui Un'altra torta Ancora Ragazzi Quindi questo Sarà il reparto Delle torte Però io C'ho Mastrolindo E mezzo E cojones Il pelato Del pulito Oh Meno male Ecco qua È perfetto Così posso Sistemare Qual'altra torta Ma che carino Però io Vorrei fare Un'altra cosa Vorrei comprare Un altro scaffale Ragazzi Voi adesso Direte Ma giugherina Ma sei impazzita Ma quanto Minchia Puoi spendere Più spendi Ragazzi Più guadagni Voglio comprare Un altro scaffale Da mettere qui In questo angolo So che così Non sarà più L'angolo magazzino Ma poco importa Faremo di quest'altro Piccolo angolo L'angolo magazzino Per allargare La sezione Dei prodotti Da casa Ragazzi Direi di sì E quindi Comprerò Uno scaffale Angolare Ragazzi Lo compro E basta Senza starci Troppo a pensare Eccolo qua Guardatelo Un po' Come carino Ci entra Mi auguro Va un po' Davanti alla porta Ma poco importa Sarà un po' Stortino Ragazzi Ma no Va bene Dai Mettiamo Altri prodotti Ragazzi Qua per la casa Ne comprerò Degli altri Così avremo scorta Anche di Quelli Ok Quest'oggi Sì ragazzi Siamo di nuovo Col culo a terra Per la gioia Di grandi e piccini Vero Sono felicissima Non vedete Quanto sono contenta E' la carta da culo Che è un furto Ragazzi Però Va bene Vale la pena Perché costa Un bel Pao Ok ragazzi Questo qua Sarà l'angolo Dei prodotti Tossici Insomma Cioè che se te li mangi Ovviamente vai a finire In ospedale Se non al campo santo Per il resto Dovrebbe essere Tutto a posto Ma Dobbiamo cambiare I prezzi Assolutamente Noi prodotti Vediamo No yogurt Ammappede No yogurtino Due Facciamo 1,95 Per quanto riguarda I nuovi cereali Ammappede 5,50 59 Sì Questa roba Dolci Non so Sono caramelle Saranno porcherie simili Facciamo 4,10 Dopodiché Cioccolato Facciamo 3,00 E 80 Dolce 4,10 E Altro dolce 2 Preciso Per cui ragazzi È arrivato il momento della verità Il nuovo momento della verità Aprire Anche la giornata di oggi Purtroppo mi sembra di notare Poco caffè Ma speriamo in bene Anche poco formaggio Però va un po' aggiornate ragazzi Incrociamo le dita Cercheremo di fare attenzione Un po' a tutto Per quanto sia difficile E via Vediamo un po' Oggi ragazzi abbiamo speso un botto Eh Ma Bisogna rinnovare i prodotti Bisogna rinnovare i prodotti E quindi Signore e signori Buongiorno Oggi un'altra Nuova incredibile Rieportura Al vostro supermercato Di quartiere Con nuovi incredibili prodotti Per farvi venire Le carie e i denti Nuovi prodotti Che sanno un po' di chimico Ma non troppo Benvenuto Signore La prima cosa Ha preso Il caffè Quello che c'ho di meno Ha preso la carta da culo Preso i prodotti nuovi Shhh Shhh Regà Questo ha speso un botto Questo ha speso un botto Non so se sono pronta Ok per lei si Sta continuando a comprare Sta continuando a comprare Pronti Per vedere la spesa Di quest'uomo Ha fatto una spesa Pazzesca Oddio pazzesca Pensavo un po' di più Vabbè 73 Dai ci piace Ci piace Ecco fatto Buona giornata Grazie signore Ma regà Per ritornare a cifre Tipo 2000 cash Ci metteremo un po' Fate la fila Non affolatevi Uh ha preso Frugen Pieno di probiotici Ecco Il pelato da pulito E ha preso lo shampoo Per pelati Giustamente Weee Oh 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 Le sono piaciuti I nostri dolcetti Signora 46 Buona giornata Eeeh Che belle ste spese Mi piacciono Perché sono varie Ragazzi Ecco qua Eeeh Yalla La 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 Pansati Non dimenticatevi Di pansati Però per favore C'è un peccato Ragazzi Che non comprino Più pansati Eh scusate Ah Aprego anche Frugen Frugen Sarà forse Il mio nuovo Prodotto preferito No Ecco il cavolo Ragazzi No Le pastiglie Per la stoviglie Credo che attualmente Siano il mio prodotto preferito Ma Va bene Lo stesso Mi fa ridere Dire frugen 31 A lei Buona giornata Però state comprando Un po' Pochino Non sbaglio Mi ha pagato Con la sleppa Maledetto Siete spregati Oh ragazzi Diamo un'occhiata Ai prodotti Ogni tanto Eh Mua Prezzo giusto Non è che sta finendo qualcosa No 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 Sembra essere tutto sotto controllo Ragazzi Sembra esserci tutto di tutto Perché non è che stanno comprando Tantissimo Eh Proprio ad essere sinceri Ecco è tornato Lo John Smith Ecco qua Non lo so ragazzi Non sono soddisfatta C'è qualcosa che non mi soddisfa oggi Solo il latte Lei è proprio un taccagno Se lo lasci dire Si vergogni Se ne vada C'è qualcosa che non funziona oggi Non lo so ragazzi Forse manca la musica Latte Ma che è Ma siete messi d'accordo Spilorci Che non siete altro Non mi parlate Non mi rivolgete la parola Andate via Oh Oh Eh Eh Ha preso anche Ha Oggi mi sa che non ci riavviciniamo neanche mille ragazzi Ma perché Perché oggi è così Che tristesse La farina Quella è costosa Ci piace 40 e 35 Salve Eh Oggi riavvicinarsi ai mille dollari Sarà un po' difficile ragazzi Perché la gente sta comprando poca roba Cioè poche spese Eh Cioè consistenti Capite Quelle spesazze Tipo da 70 100 dollari Pansati Ogni tanto qualcuno si ricorda Che esiste pansati Perché non comprate più pansati Una volta è il prodotto di punta di questo negozio E adesso È stata completamente dimenticata Ecco Buona giornata Sta facendo boia Accendiamo la luce Intanto rimetto questo al suo posto Sì un attimo Abbiate un attimo di pazienza Per questo commerciante Che oggi è triste Fruggen Mua prezzo giusto Voi siete gemmallo Oh ragazzi Sono prodotti veramente Che non vedo più tanto passare in cassa Tipo Su su O robe simili Non so perché Tanti prodotti Che prima venivano Molto comprati Adesso non se li sta cagando Più nessuno Ha preso l'olio d'oliva Signore ha fatto il suo dovere Adesso comincerò ad essere più cattiva Ha preso Buona serata Pansati Finalmente Ho venuto qua soltanto per cambiare i 100 dollari Pezzo di me Perché le interessasse di Pansati Vero Dica la verità La dica davanti a tutti E se ne vada Oh Pansati Olio d'oliva Anche il palazzo del pulito È prezzo giusto Questo è il cliente del giorno Vedi Io non voglio parlare Va bene Non voglio parlare No È meglio che non parlo Che non dico niente Mamma mia Che tristesse Che tristesse Di giornata ragazzi Non so perché Oggi non mi ha dato soddisfazione Non mi è piaciuto Non mi sono piaciuti i clienti Non mi sono piaciute le spese Che hanno fatto Oggi è stata proprio Una grandissima delusione Va bene Sono le 9 di sera L'ultima cliente Mi compra la carta da culo E l'olio E haha Oh quanta carta da culo Signore l'ho vista 59,50 Grazie signora Buona serata No signore Non entra Senza Hello darkness my old friend Mi dovete spendere almeno 50 dollari Va bene Per essere ben accetti a quest'ora E già con questo non ci siamo Vedi per esempio E questa peggio che andar di notte Signora Se ne vada Si farà perdonare Per essere entrato Alle 9 di sera Scassare i cabassisi Col cazzo Quanto ha speso Vediamo Ho preso anche 47 quasi Buona serata Allora ragazzi Allora Ho ingrandito anche questa sezione qua Va bene Tutto bello Meraviglioso Però Oggi A differenza di quel che pensassi Siamo riusciti a risuperare I mille cash Ragazzi Nel nostro portafogli Però qualcosa oggi Non mi ha dato soddisfazione ragazzi Qualcosa oggi Non mi è piaciuto Non so perché Perché i clienti Stanno comprando poca roba Fanno poca spesa E non capisco il motivo Bisogna vedere come è andata La giornata di oggi ragazzi Vediamo 39 clienti entrati 39 clienti soddisfatti E vai Oggi ragazzi Dio Siamo sotto Di mille dollari Ecco perché c'era qualcosa Che non mi tornava C'era qualcosa che non mi piaceva Siamo sotto comunque Di mille dollari ragazzi Perché Ovviamente abbiamo Comprato licenze Scaffali nuovi ragazzi Più tutti i costi Di fornitura Ovviamente abbiamo speso Solo in quello Più di mille dollari Quindi oggi è stata Una giornata Veramente Terrificante Va bene Cambiamo il prezzo Dello shampoo Prima che mi dimentichi 6,60 Prima di comprare qualcosa Di nuovo ragazzi Mi sa che ci toccherà Fare almeno Un paio Di giornate Senza praticamente Comprare migliorie O roba del genere Soltanto ricomprare I prodotti che servono Per il restoccaggio Perché se no Così veramente Non andiamo mai Su Tra l'altro Ieri non ho pagato Le mie fatture Ecco qua Paghiamo subito E intanto ricordiamoci Che ovviamente La banca Ragazzi si sta trattenendo Quello che si deve trattenere In ogni caso Direi che possiamo Ritenerci abbastanza soddisfatti Perché Perché abbiamo Ingrandito il nostro Regozio Perché abbiamo comprato Nuovi frighi Nuovi scaffali Nuove licenze Ragazzi Nuove licenze E anche nuovi prodotti Quindi oggi anche Abbiamo fatto Quel Eh Quel salto di qualità Direi Però C'è quel quadra Che non mi cosa Secondo me Possiamo migliorare La situazione Ragazzi Da qualche punto di vista Ma non so Da che punto di vista Allora ragazzi Io penso Che per oggi Ci possiamo fermare qua Penso che Off camera Quindi non registrando Mi farò Un paio di giornate Soltanto ragazzi Così Senza comprare Niente di nuovo Niente Ma solo per aumentare I guadagni Proprio per farsi Ragazzi Che la prossima volta Per il prossimo episodio Se ci sarà Io sia già pronta Per poter fare qualcosa Di più figo Qua dentro Quindi comprare Magari robe nuove Nuovi scaffali Ingrandire ulteriormente Il negozio In ogni caso Penso che questa Sia una buona trovata Fatemi ovviamente sapere Ragazzi qua sotto Nei commenti Che ve ne pare Dell'idea E se ovviamente Avete dei suggerimenti Quindi aspetto I vostri pareri Qua sotto In commento ragazzi Come sempre Io vi ringrazio Per il supporto A questa serie Sono contenta Che questi video Vi piacciono E vi divertano Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Vi lascio a tutti ragazzi Da giocherina Ciao